... Stefano Armenante, capitano della Tonno Callipo di Serie B, vittoria doveva essere, vittoria è stata, vittoria è rimonta, vittoria sofferta, una partita incredibile, a qualche senso? Sì, una grandissima partita, molto emozionante perché comunque è un valazzetto vicino a casa, per me è come un derby. E sì, l'abbiamo strappato questo 3-2, all'inizio perdevamo 2-1, quindi eravamo calati mentalmente, però l'abbiamo portato a casa. Discontinua la partita, discontinua la squadra, la prestazione, a un certo punto con la più uno siete andati fuori i giri, però poi siete stati bravi a rimontare, avete fatto un tie-break importante, vittoria importantissima per il discorso salvezza, adesso c'è lo sprint finale. Sì, adesso sì, adesso ci aspettano due grandi partite, cerchiamo di dare il massimo, sarà difficile, però ci proviamo. Quando hai capito che potevate farcela? Quando è cambiato l'atteggiamento della squadra, quando abbiamo iniziato ad esultare a ogni punto perché c'eravamo spendi ultimamente. Sei stato il vero capitano in campo, al di là delle realizzazioni dei punti, il vero leader, insieme ai tuoi compagni, ma tu da capitano sei riuscito a trascinarli? Sì, oggi è andata bene, è andata benissimo. Adesso, ripeto, due finali da affrontarle con la concentrazione giusta a partire dagli allenamenti in palestra? Sì, già da domani si lavora su e aspettiamo la prossima partita. Una vittoria che dedichi a qualcuno? No, alla squadra, perché era da un po' che venivamo da un momento brutto e va alla squadra e alla società. Grazie al capitano della Tonno Calipo di Serie B Stefano Armenante, buon lavoro. Grazie, altrettanto. Grazie a tutti.